Ciao a tutti, sono Gil Biti e vi faccio questo video perché volevo spiegare come mai non sono uscite le altre stagioni delle censure di Steam & Universe. Il motivo è abbastanza semplice, non ho trovato da nessuna parte gli episodi in italiano di Cartoon Network. Tutte le versioni che girano su Torrent, su Dailymotion, che poi sono le stesse di Torrent che qualcuno ha fatto su Dailymotion, sono in realtà delle versioni Mux. Che cos'è la versione Mux? È una versione in cui è stato inserito il video originale americano, quindi senza censure, con l'audio in italiano. Quindi in realtà quella versione lì non ha censure al suo interno, le parti che sono state censurate mantengono semplicemente l'audio inglese originale e quindi per me è impossibile fare il video delle censure perché non riesco a trovare i punti che sono stati tagliati. Quindi finché non riesco a trovare gli episodi di Cartoon Network trasmessi in Italia, non sono in grado di fare video delle censure. Tutto qua. Non è perché non avevo voglia, ma perché ho cercato, ho provato a cercare ogni dove, ma le puntate di Cartoon Network non si trovano e non si trova neanche un Cartoon Network in streaming da cui magari acquisire le puntate quando le trasmette. Niente, questo era quello che avevo da dire. Se qualcuno si stava chiedendo come mai non ci siano altre stagioni, il motivo è semplicemente quello. Se qualcuno ha gli episodi originali di Cartoon Network me lo dica che magari facciamo uno scambio. Ciao a tutti. Ciao ciao.